L'opera ha cambiato la mia vita nel senso che io non sono mai, glielo giuro, ma mai andato all'opera e questo è un mio grande difetto. La prima volta che sono andato all'opera sono andato come lavorante, sono andato a lavorare dall'altra parte e l'opera mi ha preso pian pianino, cioè è stato poco alla volta, non è stato un amore subito, un amore un po' travagliato, però io quando ero giovane studiavo pianoforte, studiavo musica, quindi sapevo già che così era l'opera lirica, non mi piaceva molto perché non capivo bene che cosa dicessero. Mi ha rivoluzionato perché mi ha cambiato veramente la vita, cioè io adesso sono immerso tutto, che sono bello grosso, immerso tutto nella lirica, ma i giovani andare a vedere l'opera perché non si impara niente di brutto, anzi si impara qualcosa di bello. Secondariamente perché noi ci mettiamo un sacco di fatica, facciamo veramente per cercare di fare del nostro meglio. Terza cosa perché adesso tanti teatri, credo tra cui il Teatro Regio di Torino, fa dei prezzi ottimi che quasi quasi è meglio che andare al cinema, almeno ti vedi uno spettacolo dal vivo e non da morto.